Non commento le dichiarazioni di Toninelli che come firmava i divieti di sbarco, che come ha approvato i decreti sicurezza e adesso si è dimenticato cosa faceva, così il segretario della Lega Matteo Salvini al punto stampa dopo l'udienza preliminare in tribunale per la richiesta di rinvio a giudizio per il caso Gregoretti in diretta su Facebook.